In questo video faremo il test delle Crackling Fountain della Jorge. Questa confezione contiene 6 fontanelle, ognuna è fatta così. Sono piccole fontanelle, ognuna di queste piccole fontanelle contiene 35 grammi e dura ben 2 minuti. Bene ragazzi, queste sono le Crackling Fountain. Come potete vedere, 35 grammi netti per ogni fontanella. Adesso andiamo ad accenderla, consiglio caldamente di appoggiarle a terra per usarle. Infatti noi la appoggiamo qua e fuoco alle polveri. Quando vi avremo dei contorni di caffi. Adesso potremmo fare il TikTok. Ma lo fa bene. Ma magari dopo guardiamo il video. Ma non vediamo il TikTok. Ma non vediamo il video di TikTok. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.